Il sorgo è il cereale che ha le caratteristiche più vicine a quelle del mais, ha però un grande vantaggio, non teme la siccità in più, non contiene aflatossine, non è sensibile alla diabrotica e richiede anche un ridotto impiego di mezzi tecnici. Ad approfondire le caratteristiche del sorgo, a sondare le potenzialità ancora inespresse di questa coltivazione è stato il convegno organizzato dall'Organizzazione Interprofessionale Europea Sorgum ID qui a Ozzano presso la Facoltà di Medicina Veterinaria. Chard Antoine Courtois, responsabile del progetto europeo Sorgum ID, cerchiamo di capire qual è oggi la situazione del sorgo, la diffusione del sorgo, l'importanza di questa coltura in Europa. In Europa si assiste a un aumento delle superfici, negli ultimi due anni questo aumento è variato dal 10 al 15%, ci sono diverse tipologie di sorgo, da granella e da foraggio, ma entrambe queste tipologie hanno registrato questi aumenti. E' un aumento quindi omogeneo in tutti i paesi europei che lo coltivano, che sia l'Italia, la Francia, la Romania, l'Austria o d'altri. Uso zootecnico, uso per il biogas, per l'alimentazione umana, da quale di questi comparti la ricerca ci farà avere più sorprese in un prossimo futuro? Io penso che in questo momento c'è della parte delle industrie... Coloro che producono nel settore industriale sorgo vogliono sempre più puntare sul sorgo da granella, da utilizzare per l'alimentazione umana, perché questo è una tipologia di sorgo poco conosciuto, mentre invece rappresenta il 90% della produzione in Africa. E quindi è una presa di coscienza che riguarda non solo gli industriali, ma anche i consumatori, quindi in questo tipo di utilizzo ci si può aspettare delle novità. E se la Francia è il maggior produttore europeo di sorgo, in Italia l'interesse per questa cultura è in continua crescita, come del resto i quantitativi. Basti dire che nel 2018 l'incremento rispetto all'anno prima, quindi al 2017, è stato del 21,7% e quasi un terzo della produzione nazionale di sorgo viene fatta in Emilia Romagna. Come in Emilia Romagna, anzi a Bologna, a Pianoro, ha sede la RV Venturoli. Per voi il sorgo non è una sorpresa? Sicuramente noi ci abbiamo creduto da molti anni. La prima commercializzazione del sorgo in Italia è stata fatta da RV Venturoli, sorghi ibridi parliamo, nel 1974. Io andavo ancora alle medie, quindi diciamo che sicuramente di storia ne abbiamo da raccontare. Questa stupenda cultura che in questi areali dove c'è una limitata disponibilità di apporto idrico si dimostra sicuramente una cultura vincente. Ed è soprattutto vincente in questi anni che parliamo di risparmio idrico, dell'acqua, minor consumo dell'acqua nei terreni, minore impatto ambientale per quanto riguarda le concimazioni e i prodotti fito che si danno alle culture. Sicuramente il sorgo è una di quelle piante che più si avvicina a questo ideale di pianta che vorremmo creare. Un'altra cosa importante è la sua ampia adattabilità. Possiamo fare della granella, uso zootecnico. Possiamo fare del trinciato, sempre uso zootecnico. Possiamo fare anche granella, uso alimentare. Nei prossimi anni arriveremo anche a commercializzare materiali che hanno queste caratteristiche. Con tutte le varie utilizzi possibili e immaginabili. Alimentazione animale, alimentazione umana, biogas, le potenzialità del sorgo sono tantissime. Tra queste c'è anche la birra. Allora, la birra col sorgo, com'è? Lei da quanto tempo la fa? Allora, noi abbiamo costituito questo birrificio da delle passioni personali. In particolare io ho conosciuto Romano Iessi, un'esperienza ultradecennale nel campo del sementiero, dove a un certo punto ha provato a fare, oltre alla passione della birra fatta con orzo nella sua cantina, ha avuto opportunità di provare a birrificare il sorgo bianco. Quando Romano mi ha detto dobbiamo fare la birra col sorgo, gli ho detto ma sai che il sorgo è uno dei cinque cereali che non contengono glutine. Quindi penso che alla fine anche la birra che viene prodotta possa essere completamente senza glutine. Il gusto della birra finale com'è? Allora, è tutto da scoprire. Nel senso che noi non avevamo esperienza, non avevamo mai bevuto una birra di sorgo. Però diciamo così che bevendola, il primo sorso assolutamente non si riesce a distinguere dalle birre artigianali che attualmente sono prodotte. Unico neo, la legislazione italiana ha codificato in un modo molto restrittivo le modalità di preparazione della birra, per cui prevede che la birra in Italia sia prodotta unicamente con orzo o frumento. Noi che utilizziamo in purezza il sorgo bianco non possiamo quindi utilizzare legalmente il termine birra. Quando dico birra io ho sempre tra virgolette. E quindi è una bevanda al gusto. È una bevanda fermentata alcolica di sorgo bianco. Quindi le possibilità ci sono. Probabilmente quello che ancora un poco è carente in Italia è la costruzione di una filiera del sorgo. Marco Bergami, presidente della CIA di Bologna. Questo convegno ha aiutato a conoscere meglio questo prodotto ma anche a capire quelle che sono le potenzialità, i legami, quello che si può costruire attorno al sorgo? Certamente. Con questo convegno sono emersi alcuni aspetti molto interessanti. Il fatto che questo sorgo, che questa cultura abbia una potenzialità è molto duttile. ci impone a tutti di far capire all'industria che si possono costruire diverse filiere. C'è veramente una potenzialità che può essere espressa sia nell'uso umano, sia nell'uso animale, nell'uso del biogas, ma soprattutto creare delle filiere veramente dedicate. Noi come mondo agricolo abbiamo questa esigenza perché il sorgo è una cultura che si sposa benissimo con il cambiamento climatico. Nelle campagne noi agricoltori l'abbiamo già sperimentato, abbiamo visto che è una cultura che comunque garantisce anche in determinati anni reddito, perché è reddito, e quindi è una cultura che veramente può avere una potenzialità per il futuro. Adesso un sipario dedicato alla gastronomia. Le ricette di una volta al coniglio e alla cacciatore, proprio come lo facevano le nostre mamme, e non è un modo di dire, perché ai fornelli chi abbiamo? La mamma di Davide, il nostro operatore, con Davide che fa da assistente. Non so quali saranno i risultati per Davide, non per la mamma. Ci vediamo dopo. Coniglio e alla cacciatore. Oggi parliamo del coniglio e alla cacciatore fatto nella maniera della Teresa. Ovviamente di coniglio e alla cacciatore ce ne saranno tantissime ricette. Questa è una ricetta di tanto anni fa, perché la faceva tua mamma. Esatto, la faceva mia mamma, ma ci vuole un buon coniglio, un bel coniglio, e questo è un bel coniglio, va tagliato, del coniglio, lavato. Qua l'abbiamo già tagliato a pezzi. Questo prima di averlo tagliato a pezzi o dopo averlo tagliato a pezzi, va messo a bagno? Dopo averlo tagliato a pezzi si lava e poi si mette a bagno 5-10 minuti o un quarto d'ora massimo a un po' d'acqua coperta, che copre acqua e mezzo bicchiere di aceto. Ok, che è un po' la marinatura per togliere. Questa è la marinatura, serve per dare anche odore, ma toglie l'odore del coniglio. Il coniglio, dici l'odore selvatico del coniglio. Si usa anche in altre carni. Comunque l'aceto può essere, però è opzionale, non è obbligatorio. Non è obbligatorio o invece che piace così si può lavare e asciugato. Poi che altri ingredienti allora abbiamo? Facciamo l'elenco degli ingredienti che abbiamo qua sulla tavola, partendo quindi da... Prendo dal romarino, aglio, sale, pepe, olio, vino, un buon vino bianco, poi i pelati si può usare anche passata per pomodori freschi, così... No, perché dopo diventa inumido. Alla cacciatora dunque pomodoro pelato. Alla cacciatora ci va il pomodoro. Ok, come quantità pesi, io non le sto a dire, perché questo è un coniglio intero fatto a pezzi. Questo è un coniglio, dipende del coniglio come grosso, questo è un coniglio da un chilo. Aglio e rosmarino a piacimento. A piacimento. Il pomodoro anche? Il pomodoro non abbondare. Non abbondare. Dei bei pomodori? Un bicchiere, due bicchieri di vino? Il vino, un bicchiere pieno, basta perché verrebbe troppo bagnato se no. Va bene. Allora adesso facciamo così, raccontiamo la preparazione. Ovviamente la preparazione facciamo così, noi adesso ve la raccontiamo ma intanto comincerete a vedere le immagini della Teresa mentre fa la vera e propria ricetta. Però intanto noi lo raccontiamo a parole, le immagini racconteranno. Quindi come si comincia? Subito si mette appena, non molto olio, olio è che stravergine di oliva, si mette un po' per unge il fondo soprattutto in una padella antiderente. Si rosola bene, si tira bene l'acqua che fa il coniglio, anche se è asciugato ma fa sempre acqua. Una volta che ha tirato l'acqua si mette rosmarino e aglio. Subito, dunque subito gli odori si sale e si pepa. Sì, però prima deve raccoglierci l'acqua, prima deve rosolare. Perché sennò dopo viene tutto... Va bene. E alla fine, quando che è messo gli odori si mette il vino e poi quasi a fine cottura si mette il pomodoro o il pomodoro fresco a pezzi o il pomodoro in scatola. Ah, quasi a fine cottura. Quasi a fine cottura. Quando che è l'inizio si fa fiamma alta per fare tirare subito l'acqua così, arrosolato. E poi dopo va a temperatura... Basso, dolce. Basso, dolce. Se il coniglio è abbastanza consistente è buono, si insaporisce, si lascia lì. Ma la cottura va ovviamente a coperchio chiuso? L'inizio no. Ovviamente, no, dico dopo che abbiamo messo... Dopo che ho messo tutto, ma è questione di 10 minuti, un quarto d'ora. Perché sennò davvero fa umido, fa acqua e... Ma la cottura totale di un coniglio della cacciatoria cosa fa? Un'oretta? No, questi conigli qui ci vuole 30 minuti. Circa. 30-40 minuti. Uno riesce a capirlo sentendo... Esatto, questo in mezz'ora è stracotto. Sono sicuro che questa ricetta di coniglio della cacciatoria vi soddisferà. Provatelo e fatecelo sapere, magari inviandoci una mail per chiederci se avete dei dubbi o per dirci se vi è riuscito bene. Ringraziamo Teresa che ci ha supportato e ci supporterà per altre ricette. Alla prossima occasione. Ciao a tutti. Benissimo, allora adesso abbiamo appena visto il nostro operatore Davide con la mamma alle prese con una ricetta. Ma noi continuiamo il nostro giro a casa di... Vedete, io sono in un'altra cucina. Vi racconteremo tutto però nelle prossime puntate perché a questo punto non ci resta che salutarci. L'appuntamento con i frutti della terra tra sette giorni, ma vedete in sovrimpressione come potete contattarci e dove potete trovarci. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito. In collaborazione con me